Ciao Sergio, sabato è stato il primo esordio come capitano, quante emozioni hai provato? Tantissime, tantissime perché era sicuramente la prima volta, quindi tantissime emozioni, però molto contento, penso che l'ho vissuta anche in maniera abbastanza calma, abbastanza tranquilla, quindi contento sia della mia esperienza come prima volta come capitano, ma anche a livello di squadra e come è andata anche la partita. Per la prossima partita che ci sarà domenica, sarà prevalentemente una partita tra due mischie? Sicuramente la mischia italiana, penso che sia una delle mischie più forti in Europa, penso che anche la mischia inglese sia una mischia molto molto forte, quindi sarà una sfida sicuramente come tutte le partite di rugby, penso che si inizia sempre per i primi otto per la mischia, quindi le squadre che hanno delle mischie forti tendono a conquistare la partita o a essere predominanti nella partita. L'Inghilterra sicuramente è una squadra molto completa, che non ha solo una mischia forte, ma anche i tre quarti molto potenti, molto veloci, quindi cercheremo anche noi di cercare anche i nostri tre quarti, di fare una grande partita, ho tanta fiducia nei nostri tre quarti, perché penso che abbiamo i tre quarti di qualità per poter affrontare anche i tre quarti inglesi, quindi spero che non sia solo la mischia, ma che siano anche i nostri tre quarti, che siano protagonisti domenica. Senti, ammesso che ce ne siano, quali sono i punti deboli della squadra inglese? Sicuramente è una squadra, come dicevo, molto completa, che è magari difficile trovare dei punti deboli. Si è visto la settimana scorsa che hanno perso in casa contro il Galles, quindi sicuramente è una squadra che magari mentalmente, se riusciamo a mettere la sottopressione, se riusciamo a essere in partita fino alla fine, soprattutto loro in questo momento che magari hanno delle pressioni anche esterne per il fatto di aver perso in casa la loro prima partita contro il Galles, penso che possiamo mettere in difficoltà anche a livello psicologico e magari approfittare di qualche errore che fanno loro. Grazie.